Un meraviglioso Apollo torna ai suoi antichi spentori per poter ancora di più essere ammirato e da ieri questa magnifica opera, databile tra il primo e il secondo secolo d.C., è stata esposta, restaurata, al manno di Napoli. Il suo ritorno alla bellezza è frutto anche delle mani sapienti di una restauratrice di polla, Maria Rosaria Esposito Piccolo. L'opera è di proprietà del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia e data in prestito al Museo Nazionale Archeologico di Napoli per la mostra su Alessandro Magno. Fu ritrovata nel 1957 in una villa laziale. Il nome della società che ha effettuato i restauri e della quale Esposito Piccolo fa parte è Decoré SRL con l'artista valdianese nella società anche Francesca Gioia, Domizia Colonnello, Alicia Rivalta. L'Apollo è stato restaurato con la collaborazione anche di Gaia Biondini e in tanti durante questi primi giorni di vista alla mostra hanno potuto ammirarne le bellezze ritrovate grazie, ricordiamo, alle mani sapiente dell'artista polvese. Maria Rosaria Esposito Piccolo